buonasera a tutti e bentornati alla quindicesima puntata di questi segreti dei piccoli di genova in pillole rispetto al mondo dei precedenti questa sera come avrete capito l'argomento anzi come avevo già anticipato via me l'argomento saranno le monete genovesi l'argomento abbiamo scelto anche dopo averla visita che abbiamo fatto qualche settimana fa alla mostra a passo di mediano in cui parleremo tra un po' tanto le monete genovesi la storia della zecca di genova inizia nel 1138 anno in cui l'imperatore anzi per semplici nel dicembre del 1138 quando l'imperatore parlo secondo in sveglia considera genovesi diritto di battere moneta e la storia della zecca si concluderà nel 1815 quando invece genova dovrà ammessare in sardegna in realtà la zecca genovese continuerà a battere moneta nel 1860 l'annunità d'italia ma non possiamo preparare di una moneta di una zecca propriamente genovese e così monete genovese ma piuttosto di monete del terreno sabato che poco e nulla hanno a che spartire con la storia e la simbologia delle monete genovese di cui vi racconterò a breve la storia come si arriva intanto alla nascita di una moneta genovese della zecca cittadina cavallo tra il xx e xx secolo è il momento in cui le monete iniziano a circolare iniziano a circolare nel mediterraneo e anche i nostri antenati genovesi iniziano a utilizzarle ma si utilizzano monete non genovesi ma piuttosto monete battute nella città italiana e straniera del mediterraneo e non solo oppure monete antiche come voi sapete in questo nella vostra in questa immagine in questo caso parliamo di un solido romano con effigiato giustiniano imperatore una curiosità vedete si chiama solido solido e poi il nome del termine a cui deriverà il nostro soldo vi dicevo appunto le monete non utilizzate monete di vari coni e di varie varie zecche non genovese la nascita di una zecca cittadina diventa fondamentale fondamentale per i commerci ma non solo l'idea di avere una zecca quindi avere di poter avere delle proprie monete e poter utilizzare giro per il mondo diventa anche una sorta di utah per una sorta di brand oggi parliamo molto di brand di come di far conoscere la società in genova come come logo una sorta di logo appunto luogo che diventa quindi un qualcosa poter esportare nel mondo questo quello che oggi oggi chiameremo brand quello che c'è molto questo molto idea questa boccia oggi molto questa idea di appunto di dare un nome a qualcosa avere un marco da esportare ecco il luogo genovese il luogo delle monete genovesi potrebbe essere potrebbe essere esportato nel mondo e pian piano ai secoli con la congine ma che diventa sempre potente ebbene questo luogo diventa anche il simbolo quindi le monete genovesi diventa il simbolo della potenza della superba nel mondo allora conosciuto ma poi sulla zecca le fonti ci raccontano che la zecca genovese nel 1564 è rubricata presso l'ospizio canone siudici verso la catena di san lorenzo genova è la più antica città ad avere un edificio permanente utilizzato per questo scopo ed è una delle più città nell'italia del medioevo ad avere una propria zecca viene fatta salire invece agli anni tra 1253 e 1881 secondo grossi bianchi polegi la funzione di un edificio con spalle al mare a fianco di quello che diverrà palazzo san giorgio per farvi capire se capite di andare in caricamento lato la facciata di palazzo san giorgio lato con il te sono quelle colonne bene quelle colonne sono le colonne dell'antica zecca ovvero meno di quello che ne rimane nel cortile interno di palazzo san giorgio e qui vi mostro invece c'è eccolo qui una un test dell'antica zecca ritrovati e qui esposti per farvi capire vi ricordate il palazzo san giorgio però poi edificato l'impero più sessanta faccio vedere per farvi faccio vedere un'immagine che vi ricorda questo se vi capite nella palazzo san giorgio e guardate in facciata al lato via frato liberi vedete queste tre queste tre test delle colonne come forse vi ho già raccontato in altre puntate sono sono altro che trofei di guerra trofei di guerra provenienti da un castellanine vedete la data 1260 questa data appunto di fondazione del di palazzo san giorgio appunto che che nasceva attaccato alla zecca appunto abbiamo qua un'immagine e la zecca poi sarà trasferita nel 1811 a castelletto precisamente sotto castelletto se oggi ricordiamo abbiamo piazza largo della zecca per l'argo della zecca ricorda che lì via la zecca e fu trasferita lì perché lì vivono i forni pubblici quindi avviedono già come dire fonte di calore quella zecca infatti prima della zecca era proprio i forni pubblici e anche la piazza all'argo della zecca in realtà era piazza dei forni pubblici piazza dei forni pubblici che oggi ricorda se vi capita di camminare tra castelletto scendere giù verso l'argo della zecca incontrerete largo e scusate piazza sopra i forni piazza sopra i forni appunto perché lì vivono i forni pubblici lì rimarrà fino al 1860 quando avrà definitivamente chiusa una curiosità tra l'altro vicino da piazza dei forni da piazza della zecca largo dei forni abitava il nostro illustri cianino giuseppe manzini giuseppe manzini che era nato via l'ovellini come sapete la sua casa natale ma poi andava a vivere proprio vicino a piazza dei forni quindi vicino alla zecca cittadina ma come era una moneta genovese nel tredicesimo secolo eccolo qua un esempio questo è la moneta una moneta famosa invece il cosiddetto genovino guardiamola attentamente intanto la moneta ha due lati il dritto e rovescio cioè il fronte e retro farla facile ebbene il dritto questo che vedete che vi indico e questo è rovescio il dritto dirà al centro una eccola qua un'immagine avete una sorta di una sorta di una sorta di mago cilicazzo la città turrita contornata dalla scritta vedete ianua e rovescio invece una croce patente in mezzo e intorno la scritta cura d'orex qui che cura d'orex beh cura d'orex perché si era colui punto quale secondo sveglia che aveva dato permesso a giroma di battere moneta quindi la moneta troviamo da una parte la croce eccola qua simbolo della fede e dall'altra a fianco invece il nome dell'imperatore quindi via da una parte simbolo della fede dall'altra invece simbolo del potere imperiale giroma si poneva quindi come repubblica cristiana che si faceva ai valori del sacro romano impero una curiosità se guardate vedete vi parlavo di dell'imperatore corrado in realtà qui le monete guardiamo di cura d'orex perché cura d'orex perché il titolo di imperatore era riservato a coloro che venivano incoronati dalla papa corrado non fu incoronato dalla papa e quindi ufficialmente era un rex non un imperatore le monete in questo caso parliamo di genovino e moneta in oro ma le monete erano anche in altri materiali in argento e in mistura con il problema di mistura o un biglione intendiamo una moneta quando lo teniamo quando la lega della moneta è costruita da una percentuale di argento che va dal 50 per cento oppure è inferiore al 50 per cento in questo caso quindi parliamo di mistura e non proprio di moneta d'argento tornando al dritto delle monete cioè a questa parte della moneta qui dicevo nel mezzo abbiamo la città turvita o città fortificata in questo piccolo voglio dire questa piccola immagine in realtà è una immagine che riassume in sé una sorta di sintesi simbolica simbolica o per usare un termine così in termini guaritori come dire una sinendo che c'è una parte di tutto riassume la genova la genova delle torri sapete che genova nel medioevo aveva più di 66 torri una città tantissime torri oggi ne vengono pochissime se andate sul mio sito una pagina delle torri potete vedere quelle ancora esistenti o quelle di cui abbiamo diciamo sì testimonianze delle fondamenta tantissime torri ma non solo se ne guardiamo attentamente l'immagine potremmo vedere in essa anche la città le porte di ingresso della città quindi se guardiamo le nostre porti per esempio la nostra porta di vacca per farvi un esempio eccola qua vedete due torri e in mezzo una porta non è altro che eccola qua la nostra città turvita quindi le due torri di lato la porta in mezzo così anche non sta eccola qui la nostra porta soprana quindi diciamo in realtà da una parte possiamo vedere come appunto città turvita l'altra appunto come una torre una delle tante porte della città della città murale nel 1855 la città murale del barbarossa l'altra parte come sapete la parola iangono che contro restituire la dimensione medioeval di genova significa appunto porta al centro come potete vedere invece sotto la porta eccola qui delle logge sembra dire le logge medioeval c'è le logge dove i mercati genovesi compievano i loro commerci non a caso siamo nel periodo in cui nasce la compagna appunto in questo periodo tra 1939 l'inizio della zecca al 1938 il primo periodo monetale della moneta genovese in cui genova è governata la capitana del popolo ed è nel mezzo delle guarie intestinie tra guelfi e ghibellini in fazioni che quando conquistano il potere raggiungono il loro emblema alle monete non raro non raro le fatti vedere le brema dei guelfi il leoncino o le brema dei ghibellini l'aquila sulle monete ecco di qui due esempi questa è la moneta di genova durante il governo nuovo elfo se guardate bene qui dall'angolo vedrete un piccolo leone mentre invece se siamo nel governo di bellino eccola qui una bella aquila compare nel dritto della moneta come sempre vedete comunque la moneta siano i guelfi e i ghibellini invece hanno sempre come l'immago civitazio quindi la città turrita nel mezzo e da dietro invece approccia patente questo intorno currado rex diciamo le cose importanti rimangono semplicemente ora i ghibellini aggiungono un'aquila mentre i guelfi aggiungono il leone con il secondo periodo monetale invece che si va da 1938 a 1528 in città si alternano alla vita doji i doji a vita i dominanti straniere sulle monete vengono troviamo le scritte a doji seguiti dal numero quindi primo doji secondo doji tutto doji eccetera oppure i simboli delle casate quando a genova carico domino straniero ad esempio giglio e corda miscione e come esempio qua un tesoro da 20 lire in cui vedete un bel miscione in questo caso genova era sotto domino di milanesi quindi appunto è quello che ha subito deciso di inserire il loro simbolo nelle monete come vedete rimane sempre la città turrita nel mezzo e la croce patente dietro sta con la loro rex quello rimane diciamo lo cambia appunto questa giunta invece un guelfi di bellini e questo caso qua è venuta fatta da dominare di stranieri nel 1928 con la liberazione al dominio straniero della riforma voluta da Andrea Doria inizia il periodo dei doji viennari con il periodo che si concluderà nel 1797 siamo nel terzo periodo della monetazione genovese questo periodo si inizia a utilizzare metodi e nuovi strumenti per battere moneta attraverso mettere appunto dicevo come vedete qui nell'immagine questa bella tavola del ciclo del torchio quindi metodi di eseguzione meccanica la matrice eccola qua incide sul tornello grazie alla forza eccitata da questo bilanciere che viene sapientemente come dire manovrato da ma da braccia umane quindi dalla forza umana però poi di qua e di qua oppure anche da per esempio animali quindi asini eccetera quindi utilizzate con questo scopo in questo modo la fabbricazione del momento diventa molto più facile e diventa molto più precisa dalla parte quindi diciamo così si migliora dal punto di vista della fattura ma si perde con l'artigianalità che invece ha avanti contro l'istinto la battuta delle monete la battuta delle monete fino all'ora che invece con un mito dice molto più artigianale sempre in questi anni si inizia si iniziano a le riporti delle monete iniziano ad essere ornati con iscrizioni zigrinature e incisioni il tutto per impedire il fenomeno della tosatura ossia della limatura e del taglio delle stesse faremo quindi che comunque rimanessero di un messo in perfette quindi ben rotonde e del peso giusto quindi del peso e non che fossero c'è limite quindi perdesse anche valore oltre che peso in 1637 abbiamo poi poche novità sulle monete in quell'anno invece eccola qua la moneta che vi ho fatto vedere la copertina quindi la prima immagine alla serata in questo anno nel 1737 come sapete viene proclamata maria regina di genova e compare per la prima volta il figlio della madonna che va a sostituire sul dritto il castello con la famosa la famosa la famosa città torrita che avevamo visto fino ad allora ma sostituire appunto dicevo la città torrita sul rete invece rimarrà la croce questa bellissima 25 dopo il 1794 vediamo intanto la madonna di genova che poi tutti ricorderete sulle porte di genova ne parleremo tra poco ed eccola infatti a lei con il mano in scettro e il bimbo Gesù bambino appunto in braccio se ricordate nelle statue Gesù bambino regge il cartillo et regeos in questo caso non sarebbe troppo piccolino si vedrebbe quindi la soluzione sta quella di scriverlo qui intorno eccolo qua et regeos oltre a scritta et regeos queste monete la prima volta troviamo l'anno vedete 1794 e in questo caso qua itc cioè colui che ha materialmente lavorato la moneta battuta la moneta qui devo sia la firma di colui che ha fatto la moneta sia appunto l'anno di fabbricazione della moneta dicevo la scritta et regeos e la madonna in trono è quello che vediamo spesso se mi capita per esempio di intensificamente pensare alla muffa delle immagini alle porte di questo periodo prima porta della lanterna eccolo proprio così la madonna sul trono e Gesù bambino in braccio la scritta et regeos mi piace citare cardinala bagnasco che qualche anno fa raccontando di questa della programmazione di maria diceva che Gesù bambino tiene in braccio questa scritta et regeos quasi a esortare la mamma a proteggere a vigliare su genova più che a comandare genova come c'è spesso la madonna quindi in questo diventa simbolo della città con un preciso valore anche civico dicevo come per le quando uno entra entra in entra in città e quindi vede sulla sulla porta sulle varie porte la madonna in trono e scritta et regeos quindi capisce chi è in comanda quindi la città la tutto ciò continuo utilizzano le utilizzano le monete e quindi come dire si capisce chi è chi è che regovernano la nostra città la prova è la superba eccolo qua per unire idealmente come dire la zecca di genova che sorgiva proprio qui a fianco qui a fianco abbiamo facevo vedere prima il resto della zecca e qui invece il passo a giorgio siamo passo a giorgio nel corte interno dove conservate oltre a se la zecca anche il eccola qui la statua di madonna regina questa è la statua che era posta sulla porta lanterna e anche qui vedete la madonna con lo scettro in mano la corona bambini gesù con in mano le chiave della città e la scritta dicevo il cartiglio et regeos che in mezzo le monete è scritto intorno qua invece è tenuto in braccio la bambina questo succede sia per la porta lanterna ma anche per le altre porte per fare un altro esempio facile la porta porta pira un'altra donna di questo periodo invece vi raccontavo forse qualche puntata precedente è quella madonna che oggi troviamo in piazza dei cappuccini o per il tuo masostolino in quel caso lì la madonna si si scosta dalle altre perché non è più seduta in trono come come capito specie per le altre porte ma è in piedi come sapete forse lo faccio a fare l'altra volta quindi si scosta dall'immagine tradizionale che si vuol dare la madonna in questo periodo questa invece è l'immagine che troviamo su tutte le porte ma non solo anche sempre in cattedrale per esempio sulla sull'altare di san lorenzo questo l'osco figura a fianco lo conoscete tutti non ve ne parlo andiamo avanti altre varianti i santi ecco tanto qui scusate tanto qui c'è la porta lanterna ecco come compariva ecco qua vedete la madonna in cima non vi sto a dire che qui sotto la scritta poso non è custode cioè poso non è custode la scritta qui non si vede ma infatti finta cioè esisterebbe una scritta poso non è custode oggi la trovate in facciata dell'aerolatorio di sant'antonio in sarzano se vi capita lì vedete il cartillo la scritta che era qui sotto quindi la lunga scritta sul marmo diciamo altre varianti i santi tra sulle monete iniziano a comparire anche i santi il prima a comparire nel 1630 è san bernardo e questo bel cavallotto eccolo qua san bernardo e 5 di prima nel 1625 era diventato uno dei quattori della città in considerazione sia nel suo ruolo attivo nella politica genovese nel 12 nel 12 secolo sia perché per sua tercessione qualche anno prima i genovesi avranno avrò vinto contro i piemontesi quindi per festeggiare per ringraziare san bernardo si decide di fare una moneta in suo onore questa mentre vedete in queste immagini è l'unica moneta con san bernardo giunta fino a noi particolarmente rara asseditura c'è chi pensava che non fosse una moneta ma una medaglia in quanto vedete c'è un piccolo buco quindi si pensava molti studiosi pensavano che si trattasse di una medaglia da prendere al collo oppure a tenere piuttosto che di una moneta in realtà studi più recenti hanno dimostrato che proprio una moneta moneta appunto di san bernardo oltre san bernardo che troviamo anche poteva mancare san giorgio in questo caso san giorgio è una moneta nel 1166 compare san giorgio in una serie di monete battute come immaginerete dal banco che da lui prende il nome di solito san giorgio con il drago e questo vedete questa zigrinatura vedete questa qua sono quelle che vi parlavo prima zigrinatura laterale fare in modo che la moneta è un pochino rovinante ma con la zigrinatura si capisce che la moneta è in tossa oppure è stata allivata appunto ha subito la tosatura come vi raccontavo prima non poteva mancare oltre a san giorgio san giovanni battista qui abbiamo san giovanni battista vedete ecco qua c'è una nuova nevo predica eccolo qua mentre sul retto per ricompare invece lo stema di genova qui siamo nel 1672 poi abbiamo un altro bellissimo lo faccio qua a zecchino san giovanni battista nel 1633 passiamo al quarto e il quinto per il quarto e quinto periodo il quarto periodo monetale inizia nel 1798 e si conclude nel 1905 quando quando la liguria viene proprio divina provincia dell'impero francese e di 15 mila il periodo il quinto periodo c'è l'ultimo periodo della montazione girovese che andrà avanti fino al 1914 nel quarto periodo ossia quella che diceva nel senso amato 1805 il periodo della repubblica ligure abbiamo monete eccole qua in cui viene raffigurata la liguria vedete come una dama seduta con la corona seduta in trono coronale seduta in trono nel quinto periodo ossia nel periodo della dominazione francese immaginerete chi potrebbe comparire se non napoleone eccolo qua napoleone qui nel 1913 quindi nel penultimo anno dominazione francese nel 1914 quindi quello piccolo periodo che da dal quarto prima della piccola prima della nazione al regno di sardegna e la monetazione genovese riprende come dire gli antichi slemi quindi arriveremo alla madonna san giro san giovanni croci e grifoni non vi parlerò tra poco di questi ultimi lungosità l'allettante non vi non vi elencherò in varico i vari misure delle monete ma ve ne dico solo due particolari il grosso e il minuto sono due nomi di monete ma sono nomi che riflettono in realtà il loro utilizzo la prima è stata utilizzata per il commercio al grosso mentre la seconda per il grande spese o per piccole spese e giano il nostro giano beh non abbiamo ancora parlato di lui e nel momento non lo ritroviamo ma ritroviamo qualcosa che diciamo a lui si riferisce infatti giano quello che rappresenta si legherà in silica indissolubile mitagina ma nel 300 e si cristallizza nella figura del grifone il grifone come giano ha due parti distinte una doppia natura possiamo così dire cristiana e pagana e come animale fantastico è spesso raffigurato come custode custode di tesori quindi che si pone davanti a una porta appunto davanti a una porta ianua quindi ben si accosta al nostro come giano nel nail del caffaro tutti voi conoscerete addirittura compare tanto questo un grifone eccolo qua un bel grifone il marmo del maestro di giano quindi vedete con la doppia natura leone e acquida quindi da una parte anche coltessa cristiana e pagana anche dalla parte l'impero il leone e acquida scusate leone leone quindi la fede cristo e l'acqua invece l'imperatore nel nail del caffaro abbiamo addirittura un grifone bifronte quindi diciamo si accosta molto bene al nostro giano bifronte professore claudio di fabio in una sua studio ritiene il grifone quindi poter possa intendersi come una terza via la terza via che si pone appunto dall'impero e il papato appunto dicevo dalla chiesa dall'acquida e il papato e scusate l'impero raffigurato dal leone tra finta cristo e nella chiesa il papato invece vedo dall'acquida l'impero vi raccontavo l'ultima cosa sul sempre sul grifone il grifone verrà nel quattroicesimo secolo verrà anche utilizzato nelle monete genovesi vi dicevo di questo di questa sorta di logo con l'immagine di genova turnita l'immagine della genova turnita bene quella immagina lì è un logo un'immagine che funzionerà funzionale nei secoli quindi rimarrà tale pertanto per moltissimo tempo nel quattroicesimo secolo però in alcuni tagli di moneta nei quartari nei quarti di enaro viene utilizzato il grifone che seduisce appunto il castello o il mago città il castello l'immagine della città turnita una curiosità il quartario in rame era utilizzato per un gioco se oggi noi facciamo testa o croce perché spesso al momento una testa davanti a croce dietro beh a genova avevano grifone e la croce quindi soprava a grifone o croce appunto con il suo nel regno di sardegna vi raccontavo prima la quindi siamo tra 1815 e 1860 la nostra zecca diceva continuerà a lavorare lavorare però lavorerà per il savoia quindi simboli e ciò che viene impresso le monete saranno simboli terreno di sardegna regno sabaudo e questo quindi diciamo così fa sì che non si parlare forse di una zecca genovese ma piuttosto di una zecca del regno di tale in questo periodo le monete che vengono stampate a giro se vengono battute a giro tra 1815 e 1860 hanno una piccola ancora qui avete qua questa piccola ancoretta che significa che le monete lì sono state battute a giro abbiamo visto tante monete ora però diciamo dove troviamo dove troviamo alle monete genovesi più tante monete in questo periodo se vuoi trovare e soprattutto dove possono studiare o vedere fisicamente e le civiche collezioni numismatiche del comune di genova sono l'esempio più importante il nucleo di questa collezione primo nucleo di questa collezione proviene dalla biblioteca universitaria e si poi verranno esposte la prima volta alle esposizioni colombiane del 1892 l'anno successivo nel 1893 verranno verranno poi esposte a palazzo bianco e lì rimarranno verranno nel mentre saranno ulteriori arricchimenti fino al 2004 nel 2004 invece arrivano al palazzo tursi e lì rimarranno fino ad oggi ancora oggi sono lì e possono essere visitati da tutti voi accanto a questa collezione si posiziona un'altra importante collezione la collezione monetaria di banca carigia una collezione nata nel 1966 con varie acquisizioni più importante forse quella di una collezione di un tale milanese carlo davanti che aveva più di mille monete nella collezione acquistata dal banca carigia 1973 quello che vedete qui davanti a voi in questa immagine è la bibbia per chi volesse conosce per chi volesse profforire la ruomente infatti non posso consigliere questo libro edito da string editore al titolo emblematico le monete genovesi libro del 75 scritto a giovanni pesce e giuseppe felloni diceva una vera e propria bibbia l'argomento un libro che io avevo già a casa dei miei genitori quindi fino a piccolino scultavo e che anzi che ho avuto in regalo da una socia del nostro giano negli ultimi anni quindi che ora ho attraverso a casa dei miei genitori e anche a casa mia quindi un libro che vi consiglio comunque un libro che si trova anche usato sulle banche dell'allianza adesso che c'è questo che è sotto natale che ci sono le monete che abbracca adesso nell'area mazzini il consiglio di acquistarlo se volete approfondire l'argomento perché è un libro fatto molto bene ed è proprio un must se volete conoscere un po' bene le monete genovesi come ultimo argomento stasera vi racconterò non vi preoccupatevi ancora qualche minuto di racconto ebbene volevo parlare della mostra di il re denaro tanto ringraziare il palazzo mediana che ha accolto me e gli altri soccigiano anzi ringrazio anche i soccigiano sono venuti due settimane fa perché era una giornata con un tipo infame diluviava quindi chi è riuscito a venire è stato veramente coraggioso e grazie al palazzo mediana e colgolo che diciamo tanto se colgo l'occasione anche rubando le parole dell'ingegner viziano che presidente dell'associazione del palazzo mediana nonché la donna di casa palazzo mediana che quando parlava della mostra cosa diceva la mostra ha lo scopo di indagare in modo approfondito e trasversale la storia della città di genova attraverso il denaro si può analizzare come mezzo e non come fine è proprio quello che vedrete questa vedete in questa mostra quello che vi ho fatto vedere stasera tante immagini alcuni essi sono immagini tratti dal catalogo della mostra e alcune monete che mostrano stasera sono come per esempio con le bellissime 25 doppie con la madonna sono esposte al palazzo mediana questo è anche un modo per poter vedere da vicino le monete quindi a vedere capire la grandezza quando vediamo le dimensioni semplicemente vedere anche la bellezza che le immagini non possono non possono rendere come dire anzi già che parliamo di palazzo mediana mi colgo l'occasione per mostrarvi due chicche potete incontrare lungo il percorso della mostra e che ben si adattano a questa serata di monete genovese la prima in realtà l'avete quasi già vista questo quadro qua questo quadro qua in realtà come vedete eccolo qua lo vedete anche qua infatti questo quadro qua diciamo così è un quadro è uno su tela opera di carlone ed è un quadro giovane carlone ed è un quadro che figura giuseppe venduto alle fratelli questo quadro qua è un quadro che tutti coloro che hanno un po di temistichezza probabilmente genovesi hanno visto e rivisto più volte perché perché tanto come ci dicevo è il quadro che è raffigurato nella copertina di questo bellissimo di monete genovese ma non solo e questo quadro è posizionato lungo il percorso delle posizioni numismatiche di palazzo torsi quindi chiunque vada a vedere le monete genovese si forzi incontri con questo quadro questo quadro in cui vedete bellissima figurati moltissime monete geno monete monete in questo buco di considerare le monete nostre essendo un quadro fatto qua a genova il bimbo che piange come saprete è giuseppe che viene venuto dai fratelli come sapete la sua storia giuseppe verrà il papà i fratelli idiosi tolgono la veste la veste che lo paio va regato e la buttano nel pozzo giuseppe verrà rubato nel pozzo e verrà venuto nei mercanti in questa scena vedete giuseppe piangente uno dei mercanti lo tiene per mano per paura quasi che scappi qui c'è il mercante che sta comprandolo vedete pian piano mette i soldi qua il mercante col suo aiutante anzi quasi qualche mercante qua stia all'aiutante di contare bene i soldi qui dite invece dovrebbero essere i due fratelli giuseppe belli contenti perché il fratello come vedete sta rendendo molti soldi povero bambino detto questo un'altra chicca forse è una cosa più bella potete vedere la mostra e questa è sapere io come che chi mi segue da un po sa che tra le tante cose che amo agire un argomento perfetto sono i presepi anzi molti voi quando saranno venuti a vedere con me nel 2019 ormai direi 2020 inizio si dirà il 2000 è stato forse a proposizione della pandemia proprio se 2020 l'ultima cittagiana che abbiamo fatto prima della disgrazia covid fate vedere quel bellissimo presepe a San Bartolomeo su Castaglino eccomi da tante figure non vi era questa questa figura qua è una figura che è una figura che è rarissima sono ci sono solo tre figure come queste sono figure in cui una statuina delle presepe tiene in mano in questo caso tra l'indice e il modice una brillante monetina d'oro eccola qua qui la vedete vede poi vi farò vedere un'immagine ancora più bella un'immagine rarissima se ne scorsi che cosa si riconoscono solo tre statuine delle presepe genomese con in mano come così tra l'indice e poi c'è una monetina d'oro e tutte e tre sono statuine che fanno parte di collezioni private quindi diciamo così praticamente come fosse non potete mai vedere questo è questa qua invece queste acquiste in particolare è esposta all'essa palazzo mediana quindi è una rara occasione di vederla la scena è presto detta un dette una figura maschile che offre a povero mendicante una piccola moneta d'oro vi dicevo oltre a questa questa figura oltre a queste due questa figura con il mano a montiador ne sono solamente altre due ce ne viene una una ricca una ricca figura figura ricamente una figura finicamente vestita e un altro invece una figura femminile dall'incarnato scuro scalza la tastina rasata è una e le orecchine a goccia dorata forse una schiava forse una schiava turca nel corteo dei maghi che tenta aderci un bambinello anche esso seminudo queste tre figure che vi raccontate appena raccontato sono le uniche tre figure che conosciamo con in mano così vedete ancora meglio con questo particolare forse lo avete benissimo scusate la foto l'ho fatta io spero che si veda bene questa piccola monetina d'oro se pensate che se tu ne avete messo un altro più o meno un po' più di un palmo fate capire velocemente quanto sia piccola questa monetina perché però una bellante monetina d'oro inutile dirvi che se andate a vedere la mostra avete l'occasione di vedere appunto questa rarità a un po' della mostra come tanti altri come come nei musei cittadini genovesi cittadini come musei civici e come in altri luoghi con passo melino anche passo di mediana aderisce la convenzione con giano e quindi andando a vedere questa mostra e mostrando la vostra testa raggiano avete diritto a uno sconto sul biglietto di interesse con questo concludo ringraziandovi intanto spero che questa breve spiegazione breve ma forse non troppo spiegazione di avervi fatto comprendere l'importanza della moneta per genova la genova è sui commerci e mi ha fatto capire che in realtà quando parliamo di moneta genovese e di denaro non parliamo come giustamente diceva anche il generale viziano diciamo se vuole analizzare come merce non come fine cioè non parliamo del denaro fine a se stesso ma del denaro attraverso il quale appunto genova si è fatta grande quando io racconto sul mio sito genova il svico di genova la bellezza dei palazzi di affreschi e tutto in realtà spesso faccio non pensavo mai che questa ricchezza qua sono anche stato fatte grazie genovesi genovesi davanti al mondo con loro con le loro monete queste bellissime monete che di cui vi ho parlato questa sera quindi monete che diventano ogni singola moneta diventa come dire simbolo e non solo di quello che la città è stata quindi della sua epoca e di come la città è circolata io ho avuto modo mio padre di studiare molto le monete genovesi perché mio padre fine conoscitore delle monete genovesi quindi mi ha trasmesso la sua passione e potuto coltivare appunto in casa c'è tanti libri ma non solo anche potendo toccare con mano queste antiche monete vi assicuro ogni volta un'emozione che questa questa moneta che non cittadina di anni sono monete che a parte chissà quante mani hanno toccato ma sono monete che ci trasmettono appunto la vita di altri secoli e grazie a loro appunto e grazie a loro se oggi possiamo raccontare la bellezza di genova e possiamo vivere la bellezza di genova con questo concludo ringrazio tutti coloro che hanno partecipato e come sempre vi rimando poi a video che caricheremo il video caricheremo poi il video nei prossimi giorni così poter vederlo a rivedere e come sempre grazie a tutti e un saluto alle piccole grazie 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 grazie